A Borrano di Civitella del Tronto, frazione gravemente danneggiata da una frana nel 2017, si è svolta una riunione tecnica per valutare il futuro della comunità. All'incontro hanno partecipato il commissario straordinario al Sisma 2016, Guido Castelli, il sindaco di Civitella, Cristina Di Pietro, il direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Vincenzo Rivera, e il professor Nicola Sciarra dell'Università di Chieti-Pescara. Il focus dell'incontro è stato lo studio condotto dal Dipartimento di Ingegneria e Geologia, guidato dal professor Sciarra, sulla frazione di Borrano. L'analisi ha riconosciuto il legame tra la frana del 2017 e gli eventi sismici precedenti nell'Appennino Centrale, portando alla promulgazione dell'ordinanza speciale 66. Un'ordinanza che rappresenta un passo fondamentale, come sottolineato dal commissario Castelli, perché prevede risorse anche per i proprietari di edifici agibili, che sebbene siano funzionali, si trovano in un perimetro a rischio idrogeologico. Questo consente loro di optare per la delocalizzazione, con la possibilità di ricostruire altrove o acquistare una nuova casa nel comune di Civitella o in un comune limitrofo entro i limiti del contributo ammissibile. Il lavoro futuro prevede il decreto di perimetrazione, che determinerà il numero esatto di abitazioni da delocalizzare e la definizione del cronoprogramma degli interventi. Un percorso significativo verso la rinascita di Civitella del Tronto, con la consapevolezza che la ricostruzione non può fare distinzioni tra le abitazioni danneggiate e quelle a rischio, al fine di garantire un futuro più sicuro e stabile per l'intera comunità.